Ciao a tutti e bentornati sulla libreria mobile di mezzanotte. Oggi conosceremo una piccola casa editrice portoghese che si chiama Games Omniboros specializzata in microgame di ruolo e in supplementi System Agnostics, quindi supplementi che non necessitano e non sono necessariamente strutturati attorno a un sistema di gioco ma che possono essere combinati con qualsiasi gioco di ruolo. Due dei loro supplementi sono appunto The Insectary e The Planchery. Come vedete abbiamo qualcosa di del tutto particolare anche nell'impaginazione. Io sono stato attratto decisamente dall'artwork e dalla creatività che c'è dietro questo. Guardate che cosa abbiamo qua. Di che cosa trattano questi due manuali? Questi due supplementi sono appunto delle raccolte di insetti e piante mostruose che possono essere combinate in qualsiasi gioco di ruolo. Sono stati scatturiti dalla fantasia dei disegnatori, quindi principalmente hanno commissionato una serie di creature assurde a dei disegnatori e poi ci hanno inventato delle regole che possono essere applicate dovunque. Io li ho trovati molto interessanti e adesso li sfoglieremo insieme. Come vedete qui si tratta sempre di cose particolarmente bizzarre, anche nel formato. Questo praticamente è aperto e un po' più largo di una quattro, ma capite che non è il classico formato del libro. Il prodotto è decisamente curato. Siamo appunto una micro casa editrice europea, portoghese, che ha una distribuzione attraverso il loro sito. Io questi manualetti li ho comprati direttamente da loro. Anche nell'impaginazione in fondo vedete che è tutto molto curato, ma proprio esteticamente ben realizzato. come usare, tanto per darvi l'idea di che tipo di persone, di designer abbiamo davanti, come usare questo libro. Non abbiamo alcuna idea. Questo libro è semplicemente una raccolta di piante, sono tutte strane, innaturali e per lo più del tutto aliene. Potresti costruirci un mondo fantasy intorno o semplicemente usarle per qualsiasi delle vostre avventure, ma fanno praticamente quello che vuoi. Nota del metodo ci dice appunto che sono partite da delle illustrazioni, alcune delle regole sono immaginate sulla base di quello che era stato illustrato, altre sono state incollate sopra di sé a una pianta. Quindi proprio siamo nell'anarchia più totale e già qui le premesse sono ottime. Qui appunto abbiamo la lista delle piante, sono 20 e terrazzo di 20 se avete voglia, nel senso se volete vederne una. E noi adesso le sfoglieremo una a una. Ecco, come vedete, ogni pagina ha il nome della pianta, in pieno stile botanico, quindi AERIS GLUTTONIS. E l'HABITAT, la dimensione. La dimensione ovviamente non usa necessariamente i metri, usa delle dimensioni che possono essere adattate a qualsiasi sistema. Questa è grande come un piccolo cane. Di solito viaggia in gruppi di 12 individui, quindi la frequenza che cosa fa. E le STAT. E le STAT appunto sono pensate, come vedete non ci sono un sacco di statistiche, perché dovendo adattarsi a ogni sistema, deve essere molto dinamica la cosa. E alla fine c'è una citazione, qualche sopravvissuto della leggenda che anima l'arborento Mori, la frequenza, quando lo vogliono gli dèi. È simile a un cipresso molto alto e il suo abitato naturale sono i cimiteri e appunto i campi santi. E come vedete qui abbiamo, sono tutte, qui abbiamo tutti i colori. Qua nell'insertory invece è bicromo, quindi è tutto rosso e giallo. Qua abbiamo il cactus occultus. Ecco, per darvi un esempio del tipo di abilità, se qualsiasi persona, qualsiasi personaggio, fissa il cactus occultus, per oltre dieci secondi, spara un raggio laser dal suo occhio. Il danno è equivalente a un'arma da fuoco o un fulmine. Se si strappa via uno delle sue braccia, cinque litri d'acqua verranno fuori. E il cactus occultus ovviamente fissa chiunque prova a staccargli qualcosa. Ecco, sono tutti i carnivorous rex. Sono tutte abbastanza... Ci sono delle illustrazioni che mi ricordano molto le parti del corpo umano. Guardate questa. La coasis. Sono fortissime. È chiaro che magari non tutte possono essere adattate a qualsiasi ambientazione. però io l'ho trovato veramente... Qua c'è il paginone centrale. Io l'ho trovato molto interessante anche perché appunto soprattutto se si gioca un fantasy un po' delirante o anche un science picture sto pensando al vecchio manuale che avevano vinto le Vols of Warn. Le Vols of Warn potrebbe benissimo esserci una grotta sotto il deserto con qualcuna di queste piante. Le piante sono per lo più letali. Ecco, questa è l'erba parassitus. Potete immaginare dall'illustrazione che cosa combina. Le illustrazioni a me piacciono molto. È chiaro che è uno stile tutto suo. Ecco, vediamo qui. Questa per esempio. Non tutte sono necessariamente malevole. Questa è il madre tree appunto. Chiunque beve il tè fatto dalle sue foglie può essere curato di qualsiasi malessere o qualsiasi malattia. Tuttavia, se lo bevono ancora una seconda volta vengono afflitti da tutte le malattie che l'albero ha mai curato. Ok, quindi bisogna stare attenti. Ovviamente queste cose qua non gliele diciamo ai giocatori. Ecco, questo è il primo. Io le altre ve le lascio scoprire. Ve le lascio scoprire a voi. Appunto sono 20. Volevo solo farvi vedere le ultime. Vabbè. Pirilampus. Vabbè, questa ve la faccio. E alla fine passiamo invece a The Insectary. The Insectary invece come vedete è più piccolo. Si tratta appunto di insetti. È stato il primo che hanno pubblicato. Ecco, se siete interessati a comprarli sono in offerta al momento sul sito della Games Omnivoros. Non sono minimamente sponsorizzato da loro. Io semplicemente promuovo quello che fanno e sono contento che siano in offerta. Anche perché le spese di spedizione sono un po' pesanti. Sono 25 tutti e due più 10 euro di spese di spedizione. Quindi un totale di 35. Qui abbiamo, vedete, sugli Insectary lo stampo rimane lo stesso. Difatti io le ho prese in coppia, in sconto, perché appunto secondo me viaggiano bene insieme. Le illustrazioni qui sono piccome. Siamo sul punk hardcore spinto. Le introduzioni sono sempre ironiche. Esatto, come le regole, come utilizzarlo, ci sono dei colpi secondo me di... Qua c'è il random insect generator che non c'è invece in una delle piante. Nel senso che qua possiamo generarne uno a caso con una tabella e una serie di tiri da fare. C'è una regola bellissima qua che dice appunto se... Allora... Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no. Adesso ve la trovo perché mi piaceva troppo. Dov'è, 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 dov'è? Ah, sì. Qua. Che suoni fa? Che colore fa? Nel caso i... Allora, che cosa? Se devi descrivere l'insetto ai tuoi giocatori semplicemente apri il libro e mostranei uno o quello insomma che hai trovato. Ma se vogliono sapere di più tira uno dei rumori e dei colori random e aggiungi qualche dettaglio. E se vogliono ancora ulteriori informazioni oltre questo questo conta come se i giocatori siano dei rompiscatole e quindi crea un altro insetto e gettaglielo addosso. Qua siamo a livelli di design capite? Molto, molto alti. Ah, l'arachide dell'agonia fetale è terribile. Anche qui come vedete non ve lo descrivo perché voglio, voglio anche che li scopriate insomma se vi capita durante i vostri viaggi. Ve lo alzo un po' perché qua effettivamente non si vede molto. Questa è la falena elettrica. Ce n'era uno terribile. Poi ovviamente ci sono anche delle citazioni qui dal cinema. ma per esempio c'è la mosca. Ecco, i fan di Jeff Cobblum possono immaginare che cosa fa la mosca. Ecco, questa è la pulce del purguito incontrollabile. Come vedete qui come prima Habitat naturalmente vive sui topi e qualsiasi animale randaggio che vive negli spazi della periferia appunto. Dimensione come una piccola come una piccola pulce. effetti causa improvviso e incontrollabili spisse si dice da noi quindi pruriti per un di quattro giorni dopo il morso. Il personaggio deve passare un test di abilità o un tiro di salvezza per una situazione stressante altrimenti buttano giù tutto lasciano tutto praticamente tutto il loro armamentario per terra e iniziano a grattarsi veramente forte. devono tirare un di dieci quando hanno finito sull'otto o più le litch quindi il pulito inizia a sanguinare e c'è il rischio di infezione quindi questa è abbastanza qua abbiamo la vespa garcanotuesca quindi anche qui ecco qui le illustrazioni sono così però secondo me possono essere utilizzate anche in un ambiente sì un po' fantascientifico capito una volta riadattate leggermente ah sì questo è l'insetto che non può essere pronunciato dove vive? nella regione più aliena del tuo setting è grande abbastanza per entrare nella bocca di un essere umano effetti del morso causa in difficoltà di parlare eccessiva salivazione e torpore della bocca mangiare è impossibile senza che il personaggio mangi pezzi della sua stessa bocca quindi inizia a scarnificarsi all'interno della bocca dura per un di 20 ore durante questo tempo il personaggio ha penalità tutte le interazioni o i carismi o i testi carisma appunto citazione ecco questa è la mosca vi dicevo prima l'orrore dalle mille dalle mille zampe va bene e questo è The Insectary gli altri ve li lascio scoprire anche questi sono vedete qua ecco a me mi piaceva perché c'è l'illustrazione e la proporzione è che non si vede bene quindi questa è un ingrandimento del 333% vediamo se ne trovo un'altra ecco questa non c'ha l'ingrandimento quindi questo scopriano è a grandezza naturale sull'illustrazione questo dettaglietto mi piace molto come vedete sono curati a me gli ho trovato i due prodotti decisamente interessanti e sono contento di averli sfogliati con voi ecco questi sono i due manuali del Games of Nivorous andate a vedere il loro sito vi lascio il link sotto due manuali che secondo me anche solo per farci due risate ci stanno sulla mensola di qualsiasi giocatore per come è curato il prodotto e per le idee folli che ci stanno dentro poi chissà se decidete di usarle o no dipenderà quanto vi stanno sulle scatoli i giocatori perché ce ne sono alcune veramente veramente cattive ma è così che ci piace giocare vi lascio grazie di aver visto il video se vi è piaciuto mettete un pollicione sotto se non vi è piaciuto mettete un pollicione giù in ogni caso lasciatemi un commento che a me piace come sapete interagire un po' con voi e ci vediamo nella prossima puntata della libreria mobile di mezzanotte ciao ciao